Giovanni Mantovani, direttore generale di Verona Fiere. Quando pensiamo a Verona e alla Fiera di Verona pensiamo noi del settore agroalimentare, pensiamo subito al Vinitaly. Ma il sistema fieristico italiano quanto aiuta poi questo importante comparto all'estero? Credo che abbia un'importanza davvero rilevante perché abbiamo dei brand fieristici, abbiamo citato Vinitaly ma potremmo citarne altri come Cibus, come TuttoFood che stanno non a Verona ma stanno in altre fiere ma anche tutte le filiere della tecnologia alimentare o di altri settori meno noti ma che hanno grande sviluppo all'estero, penso al nostro salone dell'olio d'oliva. Credo che complessivamente transiti attraverso il sistema delle nostre fiere e Verona in questo ha un po' un record perché il 40% delle nostre attività sono rivolte proprio all'agroalimentare, proietta all'estero un'enorme e importante quantità di export. E questo avviene anche non solo attraverso le fiere che fessiamo in Italia ma anche attraverso gli eventi che organizziamo sui grandi mercati internazionali. Grazie.